Piacere, io sono Fabrizio Fazzolari, un agente immobiliare diverso. Con questo breve video ti voglio raccontare la mia storia, perché sono diverso dalla maggior parte dei miei colleghi agenti immobiliari e perché potresti pensare di scegliere me per vendere la tua casa di livello. Mi chiamo Fabrizio Fazzolari e sono un semplice agente immobiliare che però non si accontenta mai. I miei standard e i miei servizi sono sempre in CCM, come diceva il presidente dell'azienda Infranchising per la quale ho iniziato a lavorare nel lontano 1997 appena uscito da scuola. CCM vuol dire Continuo e Costante Miglioramento. Per vendere le case come si faceva 20 anni fa e come alcuni dei miei colleghi continuano a fare, non serve pagare un'agenzia immobiliare. Adesso lo puoi fare da solo cercando qualche nozione qua e là su internet. Io voglio sempre innovare qualcosa ogni giorno. La categoria degli agenti immobiliari è una delle peggiori agli occhi dei clienti. Gli agenti immobiliari sono spesso mal visti ed io mi vergogno di questo. Sicuramente uno dei motivi è che le agenzie immobiliari sono formate molte volte da pseudoprofessionisti. Infatti molte persone vendendo e comprando casa provano un'esperienza da incubo, non per colpa loro ma per colpa dell'agente immobiliare. Anche quando ero un semplice collaboratore di agenzia studiavo in qualche modo il sistema di svecchiare il ruolo degli agenti immobiliari. Già all'epoca infatti gli agenti immobiliari erano mal visti da molti, forse per come erano e per come sono ancora ad oggi strutturate le agenzie immobiliari, per colpa di quegli pseudoprofessionisti che ci lavorano dentro. Non tutti per carità, ma le eccellenze sono veramente poche. Fabio, Cristina, Mauro, Giovanni, Elisabetta, Riccardo, Giulio, Mario, Bruno, Walter, Cristian, Marco, Lorenzo, sono alcune eccellenze. Alcuni di loro però sono ancora old style nel modo di vendere le case. Ma tornando al passato io mi vergognavo anche perché in realtà non facevo nulla di diverso da quello che facevano tutti. Non ero un vero agente immobiliare ma un semplice direttore del personale della mia agenzia. E per questo io non ero soddisfatto. I servizi che offrivo erano sempre gli stessi da vent'anni, con la differenza che le foto non si sviluppavano più ma si scaricavano in JPEG. Noi agenti immobiliari ci inseriamo in un contesto che dovrebbe essere felice e gioioso, ma visto il nostro modo di servire le persone, infatti siamo spesso insistenti, poco chiari, superficiali, viscidi, poco precisi, sbrigativi e frettolosi, facciamo andare in atteggiamento negativo venditori ed acquirenti. Io voglio che i miei clienti siano sereni, sicuri ma soprattutto al riparo da ogni rischio. Anche quello di sbagliare agenzia immobiliare. Io voglio trasformare quello che molte volte si rivela un incubo in una piacevole esperienza. Non dovrai mai avere nulla che ridire contro di me o contro uno dei miei colleghi. Io voglio che l'esperienza sia wow. Se poi ci mettiamo dentro che molti agenti immobiliari non hanno mai comprato e venduto una casa per loro stessi, capiamo il motivo per il quale non curano i dettagli e si rendono terribilmente fastidiosi. Non essendo informato e non avendo mai avuto un'esperienza diretta, molto spesso non comunicano o non sono a conoscenza neanche delle informazioni base su una casa. Inoltre devi sapere che molti agenti immobiliari non hanno il patentino, ovvero la licenza per svolgere la professione di agente immobiliare. Lo so che può sembrare assurdo, ma è così. E non vale solo per i giovani, ma anche per parecchi vecchi che non sono riusciti neanche a passare un esame molto semplice in camera di commercio. Figuriamoci che fior fior di professionisti possono essere. Ecco perché capisco l'insoddisfazione dei clienti quando si trovano davanti all'80% di uno di noi. Io odio il modo di fare di quell'80% di pseudo agenti immobiliari e con questo video voglio dimostrarti che non siamo tutti uguali. Ma torniamo alla mia storia. Ho iniziato come molti agenti immobiliari in un franchising e ci sono rimasto per diversi anni. Poi questo mio grande desiderio di migliorare mi ha portato ad essere mal visto da parecchi dei miei colleghi titolari di agenzia che lavoravano alla vecchia. E per questo, non potendo il franchising stare dietro alle richieste continue di spiegazione da parte dei miei colleghi relativi alle mie iniziative extra, alla fine sono stato accompagnato gentilmente alla porta. O fai quello che fanno tutti oppure devi uscire, mi è stato detto. Sono stato accompagnato alla porta per colpa della mia voglia di offrire un'esperienza migliore al cliente. Sembra incredibile, ma è vero. All'inizio della mia esperienza da solista è stato difficile. Ci sono voluti almeno tre anni per riuscire ad ingranare, ma la voglia di accelere mi ha spinto ad andare avanti ed ora finalmente ho trovato la quadra per offrire servizi top che finalmente vengono apprezzati veramente da molti clienti. La regola della qualità a discapito della quantità è fondamentale. Per me è una condizione irrinunciabile. Negli anni questa ricerca della qualità mi ha portato a specializzarmi nella vendita di case e ville dal valore superiore alla media, dove appunto è possibile mettere in pratica tutto ciò di cui ho parlato poco fa. Come dicevo prima, mi sono differenziato dalla massa dei miei colleghi agenti immobiliari old style che non fanno altro che inserire un annuncio sul web e sperare che qualcuno chiami. Ogni giorno mi invento nuovi modi per vendere le case importanti, quelle che tutti desiderano ma che poi sono le più difficili da vendere. Le case importanti infatti sono le più difficili da vendere, non perché abbiano problemi, ma perché come normale che sia, le persone che possono acquistarle sono veramente una piccolissima parte della popolazione e quindi bisogna fare di tutto per invogliarli ad acquistare, anche se magari al momento non ci stanno pensando affatto. Ecco uno dei motivi che mi spinge ogni giorno ad innovare. Un vero agente immobiliare dovrebbe essere una risorsa, non un costo. Se però si limita a fare qualche foto, molte volte malfatte, e a mettere qualche annuncio sui vari portali immobiliari e basta, è normale che non lo sia. Per metterlo l'annuncio su immobiliare.it, fallo da solo e risparmio a 10, 20, 30, 50 mila euro di provvigioni. Per questo non serve un agente immobiliare. Come vedi il mio è un approccio differente e per poterlo fare, utilizzo un mix tra sistemi digitali per intercettare la clientela latente italiana ed estera e riviste cartacee che spedisco a professionisti per cercare collaborazione e vendere in off market. Per vendere una casa importante non è neanche sufficiente solamente essere famosi, frequentare i circoli del golf, gli eventi mondani, essere in politica o far parte appunto di un network di agenzia. Alcune di queste cose possono servire, ma da sole non funzionano. Io ti voglio presentare Planet F, un sistema di vendita complessa che non è formato solo dalla conoscenza, ma che è un ecosistema di servizi online come video, teaser ed offline come magazine, eventi la premiere e liste di clienti altospendenti a cui proporre casa in anteprima. Un solo servizio da solo non serve per risolvere il problema della vendita ad alto prezzo. Ogni singolo strumento è connesso all'altro per far emergere e valorizzare al massimo il tuo immobile. Se vuoi avere un'idea concreta delle strategie che utilizzo, puoi cliccare sul link di iscrizione sul pulsante Scopi di più o andare direttamente sul mio sito internet digitando www.fabriziofazzolari-agenteimmobiliare.it digitando slash e poi strategie per vendere case importanti dove tra ogni parola c'è un segno meno. Se devi vendere casa, ti aspetto di là. Ciao!